La Costituzione parla dei lavoratori, non ne parla come di una categoria separata, ma è come se parlasse di ciascuno di noi. Perché? Perché, credo che tutti lo sappiano, la Costituzione si apre con queste parole, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Le parole che aprono la Costituzione nascono da un grande dibattito che poi viene concluso da un democristiano che è stato molto influente alla Costituente come altri ed era Vintore Fanfani. Alla fine scioglie i dilemmi, c'era una proposta che era sostanzialmente la proposta di socialisti e comunisti d'Italia, una Repubblica democratica di lavoratori, lui sceglie quest'altra forma, Repubblica democratica fondata sul lavoro. Perché ricordo questo? Sia per dire che quando noi troviamo la parola lavoratori nella Costituzione ci riferiamo certamente all'uso corrente della parola, ma se la Repubblica è fondata sul lavoro, allora tutti noi siamo partecipi di questo modo di essere della Repubblica che dunque non è fondata sul privilegio, che non è fondata sul denaro, è fondata sul lavoro. Perché ricordo questo? Perché avvicino questa formula a quella della Costituzione tedesca, della dichiarazione europea? Per una ragione molto semplice, sia perché poi la Costituzione italiana riprende il tema della dignità e dice la dignità del lavoratore si ha attraverso l'esistenza libera e dignitosa, ma anche per un'altra ragione, perché le due Costituzioni dei Paesi Vinti, la Germania e l'Italia, innovano il lessico e la struttura delle Costituzioni. Sono due Costituzioni che non si aprono parlando di libertà e d'eguaglianza, ma la Costituzione tedesca parlando di dignità, la Costituzione italiana parlando di lavoro. È una novità che riflette la novità di quegli anni, il fatto che quelle Costituzioni nascessero da una consapevolezza. I Paesi Vinti hanno più degli altri la sensazione e il bisogno di cambiare, perché sono stati protagonisti delle vicende tragiche che debbono essere allontanati.